Bene, bene, vediamo in questo video le persone maligne, persone maligne, come riconoscerle. Dieci segnali. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, ovviamente seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Allora, è importantissimo riconoscere le persone maligne, cara Malga Shona. Perché? Perché se tu non riesci a riconoscere le persone maligne ne sarai soggiogato. Le persone maligne distruggeranno, rovineranno, agninteranno la tua vita e tu non te ne renderai neanche conto. Perché le persone maligne sono anche seduttive, poi da un certo punto di vista. Che siano narcisisti è probabile, perché tutti i narcisisti sono anche persone maligne. Potrebbero non essere narcisisti, ma tanto non è che tu devi metterti lì a fare il diagnosi o cazzi e mazzi. La cosa è che se incontri le persone maligne, devi levarteli dai coglioni! E la cosa fondamentale quindi è riconoscerle quali sono. Perché il problema è che le persone maligne si camuffano, sono camaleontiche. Non si riescono a riconoscere tanto facilmente. Sono in grado di camuffarsi e di apparire agli occhi altrui, soprattutto ai tuoi occhi, come una persona, come persone ad esempio generose, come persone disponibili, come persone che sono, diciamo, buone. Ma prima di penetrare dentro meglio l'argomento, ti ricordo di iscriverti al canale, ovviamente attivando la campanella per le notifiche di nuovi video, seguirmi ovviamente su TikTok, su Instagram e... Fai donazioni al canale! Fai donazioni che almeno fai qualcosa di buono. Allora, vediamo quali sono, sono ben accetto ovviamente, le persone maligne. Allora, la prima caratteristica delle persone maligne è che hanno tante facce. E se tu ci presti attenzione, te ne rendi conto. Tante facce cosa vuol dire? Che, ad esempio, quando incontrano una persona, come dire, magari di grado inferiore, di livello inferiore, insomma, più povera, insomma, una persona più, come dire, di meno successo, tendono a essere arroganti, arroganti. Quando incontrano una persona più o meno dello stesso livello, tendono a essere competitivi, tendono a essere competitivi. Quando incontrano una persona di livello morale superiore, tendono a essere invidiosi davanti agli altri, ma, invece, tendono a essere, da un certo punto di vista, anche sottomessi, insomma. Si adattano, fanno buon viso a cattivo gioco. Non si fanno scrupoli se devono parlarti alle spalle. Questo è un punto fondamentale. Quindi, avere tante facce è una delle caratteristiche delle persone maligne. Un'altra caratteristica è, diciamo, la voglia di manipolare. Perché, un altro segnale che tendono a manipolare, vogliono tenere tutto sotto controllo. Se le cose non vanno come loro vogliono, tirano fuori una cattiveria mai vista. Diventano irosi, diventano cattivi. Sono esseri che sono anche possessivi. Cercano di imporre sempre il loro punto di vista. Credono, loro, che la loro opinione sia sempre quella giusta. Non gli fotte niente di quello che pensano gli altri. Quindi, tutte queste persone maligne hanno proprio questa tendenza a manipolare. E ci riescono bene, tra l'altro, a manipolare. Non è che ci riescono male. Riescono a manipolare spesso a loro piacere le persone. Sono come dei ragni. Dei ragni che riescono a catturarti nella tela del ragno. Senza che te ne accorgi. Perché tendono ad essere persone subdole. tendono a usare manovre, diciamo, a manovrare le persone. Utilizzando, ad esempio, i sensi di colpa. Facendo leva sulle debolezze delle persone. Quindi, questa è una seconda caratteristica molto importante delle persone maligne. Quindi, se tu le riconosci, devi evitarle. Perché se le riconosci, le devi evitare. E soprattutto non te ne devi innamorare. Perché innamorarsi di una persona maligna è, come dire, peggio che andare di notte. Innamorarsi di una persona maligna è proprio ricevere, diciamo, come dire, situazioni estremamente negative, situazioni estremamente nefaste. Innamorarsi di una persona maligna è come prendersi, diciamo, come possiamo dire, finire sotto un tier, insomma. È la distruzione totale. Un'altra caratteristica delle persone maligne è che vogliono sempre avere un vantaggio. Vogliono sempre avere un tornaconto. Ma, come dire, cercano in qualche modo di... Non fanno nulla per caso. Quindi non si innamorano neanche per caso. Si innamorano, segnalano dei vantaggi. Vanno alla ricerca dei vantaggi. E quindi nulla viene lasciato al caso, tutto viene programmato, diciamo, nei dettagli. Ma non è che te ne accorgi dopo. Te ne puoi accorgere subito. Le persone che se ne accorgono dopo sono le persone bisognose. Questo è un mito da sfatare, no? Perché c'è chi dice, eh, ma te ne accorgi dopo. Non è vero. Le cose sono tutte lì sul piatto. Certo, sono subdole, diciamo. Ma io ti sto dando questa indicazione a po'. Sono subdole, sono apparentemente all'inizio possono sembrarti brave persone. Ma apparentemente. Perché se tu osservi, te ne rendi conto. Se tu osservi i dettagli, te ne rendi conto. Quindi questa è una cosa fondamentale. Devi osservare i comportamenti. Certo è che se tu appena lo vedi, bum 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 bum, ti batte il cuore e le fettine di prosciutto sugli occhi, non capisci un cazzo. È evidente che allora non riesci più a riconoscerle. Questo è evidente. Ma lì è colpa tua. Questo è evidente. Nel frattempo che andiamo avanti, iscriviti al canale, attiva la campanella e fai donazioni. Fai donazioni al canale. Almeno fai qualcosa di buono. Fai donazioni al canale. Anche poco, ma fai qualche donazione. Allora, un'altra caratteristica è che sono degli imbroglioni, ovviamente. Tendono a farti imbrogliare, a manipolare la realtà. Manipolano le tue emozioni per raggiungere i loro obiettivi. Cercano di farti diventare una pedina del loro sporco gioco. Però anche qua, anche qua, bisogna rendersene conto. Possono essere persone affascinanti, ma se tu sei una boccalona o un boccalone che abbocchi subito, è evidente che nessun pranzo è gratis nella vita, no? Quelli che all'inizio ti fanno il love bombing, fanno così, è perché te lo stanno per buttare dentro. Certo è che un'altra caratteristica, la quinta, è che sono bugiardi e mentono sempre, costantemente. Questa è un'altra caratteristica, però devi rendertene conto. Devi rendertene conto da subito come vanno le cose. Non puoi, diciamo, sperare che le persone cambino. Devi osservare. Se diventi un'attenta osservatrice, te ne rendi conto. È ovvio che sono dei bugiardi. Un'altra caratteristica è che omettono spesso delle informazioni importanti. Quando l'incontro delle persone maligne non è che ti dicono che magari c'erano cazze e mazze, problemi. Tendono a omettere. E questo è un altro punto fondamentale. Un'altra cosa che le caratterizza, che qua non puoi sbagliare mai se vedi questa cosa qua, è che negano i fatti anche se sono evidenti. Loro, puoi anche trovarli a letto con un'altra, dicono che non è vero, che la stavano aiutando a uscire dal letto, non lo so. Cioè, negano l'evidenza. Le persone che negano l'evidenza, che non ammettono, diciamo, i loro errori, che non ammettono i loro sbagli, sono persone maligne. Devi tolgere dei coglioni. Questo è un'altra cosa fondamentale. È un altro punto, un altro punto da tenere in considerazione. Non puoi pensare che una persona che neghi i fatti, anche quando sono evidenti, sia una brava persona. E un'altra caratteristica è che non chiedono mai scusa. Questo puoi notarlo. Non tendono a non chiedere mai scusa. Anche quando sbagliano, perché la parola scusa, la parola sbagliato, è come quasi non gli uscisse dalla bocca. Resta lì bloccata. Hanno un po' questa caratteristica. E poi tendono a farti vivere i sensi di colpa. E per farti vivere i sensi di colpa utilizzano tutte le strategie, no? Cioè, un'altra cosa, sono dei vampiri energetici. Cioè, sono vittime. Si presentano spesso anche come vittime. Ecco, questa è la decima caratteristica. Ecco, se tu osservi queste caratteristiche, sai che hai a che fare con una persona maligna. E allora, l'unica soluzione è TOGLIETELE DEI COGLIONI! Non ci sono altre soluzioni. Te le devi togliere dai coglioni. Purtroppo altre soluzioni non sono presenti. Quindi, l'unica cosa che puoi fare è levarteli. Levarteli di torno. E dici, ma io lo amo, ma io lo amo. E questo, ma io lo amo, ma io lo amo, vuol dire che sei stupida. Se tu ti rendi conto che una persona è così e dici, ma io lo amo, ma io lo amo, sei stupida, mi spiace dirlo, perché non è mai bello dire... Però è ovvio che se tu ti innamori di una persona maligna, non c'è, diciamo, possibilità di... Allora, come dire, che causa del suo mal pianga se stesso. Bisogna imparare a togliersi dai coglioni. Questa è l'unica possibilità. E per farlo, come ho già detto in altre situazioni, devi fare un atto di coraggio. Un atto di coraggio è che nonostante la paura che tu puoi avere, devi fare un atto di coraggio. Devi agire nonostante la paura e levarti dai coglioni. Digli, vaffanculo, non mi interessi più, mi fai cagare, mi fai schifo, non mi interessi... Anzi, neanche dare giustificazioni. Saluto a Caterina. Sparire completamente. Sparire, sparire, sparire. Non scrivergli. Non cercarlo. Non telefonargli. Devi togliertelo dalle palle. Non importa che ti piace, non importa che ti faccia godere, ma poi questo è come dire, lo scotto che devi pagare è veramente alto. Quindi questa è l'unica possibilità. Non ci sono altre possibilità. Se tu speri che una persona cambi, cambierà sicuramente, ma cambierà in peggio. Bisogna allontanarli. È ovvio che è meglio allontanarli se non ci hai fatto tre figli, perché io mi chiedo, ma uno come fa a fare dei figli con una persona e si accorge dopo che è maligna? E lì è un errore grave, ovviamente. Si può sempre rimediare, però bisogna accorgersene prima. Come dire? Perché i segnali ci sono. Certo, possono essere manipolati, possono manipolare, grazie Caterina, possono manipolare, ma alla fine i segnali ci sono tutti. È ovvio che se ci fai tre figli, accendi un mutuo, cazzi e mazzi, e poi è ovvio che diventa difficile, però non impossibile, nonostante tutto non è possibile, è sempre possibile levarsi i ramaroni. È ovvio che prima te ne accorgi, meglio è. Quindi quando si incontra una persona nuova, una relazione nuova, bisogna, grazie Gaia, bisogna, diciamo, rendersene conto, rendersene conto subito, cercare di prendere le distanze. Prendere le distanze è l'unica soluzione. Bene, quindi mi raccomando, fate attenzione, fate, grazie Caterina, fate attenzione, e cercate di evitare le persone maligne. Allontanatele dalla vostra vita, perché la vita è una, il tempo che abbiamo a disposizione è limitato. Pensate che la nostra vita, di un essere, di una persona che vive 80 anni, sono circa 30.000 giorni. Uno dice, 30.000 giorni sono tanti, però non sono neanche così tanti 30.000 giorni. Se andate a pensare, come dire, togliete i primi, l'età dell'infanzia, l'età della vecchiaia, e prendete insomma, alla fine una quarantina di anni buoni, su 80, e come dire, restano 15.000 giorni, e non è che sono tanti ovviamente. Bene, detto questo, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, ovviamente su TikTok, fate donazione al canale se vi va, sono sempre ben accette, ben gradite, e per questo video è tutto, do appuntamento al prossimo, al prossimo video. Mi raccomando, attivate anche la campanella.